Non so quanti bandi avete scritto voi, io ne ho fatti. Francesca Baldini del Partito Democratico ha così sfidato seccamente Lucia Lanfredi del Movimento 5 Stelle per dichiarare che il compito dei consulenti per l'efficientamento energetico era di far affidare il servizio di illuminazione pubblica, garantendo determinati obiettivi, non di scrivere per forza un testo di gara. Per le minoranze quei 38.800 euro per i consulenti di una gara mai eseguita non erano chiaramente giustificati. Dopo mesi di interrogazioni e incessanti polemiche la risposta è arrivata nella commissione bilancio di ieri pomeriggio. L'assessore Alessia Manfredini ha spiegato che il comune di Cremona ha avuto la fortuna di ricevere un finanziamento cariplo ad un progetto comunale per l'efficientamento energetico che è servito a coniugare le esigenze di Cremona a quelle dell'offerta di Citellum, più generica, valida per i territori della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. Tutte le spese compiute, compresa la consulenza, saranno rendicontate dal comune a Cariplo che giudicherà la correttezza della procedura, ma l'amministrazione si è già garantita il progetto presentato ieri in commissione dall'amministratore delegato di Cetilum, Raffaele Bonardi. Dopo la consulenza ci si aspettava un bando di gara tutto cremonese. Il comune invece ha poi scelto di aderire alla convenzione Consip su indicazione dell'autorità anticorruzione. Non c'erano altre offerte in grado di dare un vantaggio di almeno il 3%. Infatti le proposte di AZA e Linea Reti Impianti, paragonate con quelle di Citellum, offrono meno. Il dirigente Marco Pagliarini ieri ha illustrato il lavoro compiuto dai consulenti assieme ai tecnici di AEM e del comune in due anni e mezzo. Alessio Antonioli del centro-sinistra ha notato che di fatto una gara c'è stata, considerato il confronto fra tre progetti in competizione tra loro. Ora il comune ha riscattato interamente la rete e quindi partecipa a un altro bando, quello regionale. Una situazione inquietante per le minoranze, poiché l'amministrazione sembra del tutto risoluta a insistere nella serie di appalti con project financing che vedono grandi società a giudicarsi la gestione. Non a caso, nella riunione fiume di ieri è riaffiorata la vicenda della piscina, il cui bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. Intanto Citellum è già al lavoro e ha rilevato che ci sono almeno 500 pali della luce da sostituire. Un serio problema di sicurezza anche perché, in diversi casi, la verifica di messa a terra non è stata fatta. Citellum si è fatta preferire ad A2A e linea rete impianti del gruppo LGH, perché investe di più, oltre 6 milioni di euro, offre una convenzione più breve, 9 anni e non 20, e consente a Cremona di diventare smart city. Il risparmio energetico sarà del 61%, l'illuminazione aumenterà dell'80% con minori consumi di CO2.